Nulla è possibile se ti credi del Signore Nulla è possibile se tu credi a Lui colpo Dio ti chiede e c'è qualcosa che sia un po' difficile per me Sulla parola forza di confidare nel Signore Nulla è possibile se tutto è possibile per te Nulla è possibile se ti credi del Signore Siamo riconoscenti al Signore che ancora una volta ci troviamo nella Sua presenza Lo vogliamo adorare e lodare in questo nostro culto insieme a tutti quanti raccolti attorno alla parola di Dio Il centro di ogni nostro culto dove lo spazio principale è occupato dal desiderare ardentemente di ascoltare cosa Dio vuole dire al suo popolo Leggiamo insieme nell'Evangelo secondo Matteo al capitolo undici dal verso sedici Ma a chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze Che gridano al loro compagno e dicono Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato Abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto Di fatti è venuto Giovanni Che non mangia e non beve E dicono a un demonio È venuto il figlio dell'uomo Che mangia e beve E dicono ecco un mangione, un beone Un amico dei pubblicani e dei peccatori Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere Possiamo sedere Un brano alquanto misterioso Il primo impatto che riceviamo è Chissà il Maestro che cosa voleva dire A che si voleva riferire E quale insegnamento desiderava dare Subito vogliamo dire che Il diverso annuncio della venuta del Regno È il soggetto qui contenuto Dio ha sempre avuto alcuni Che hanno annunciato il suo Regno venire E l'attesa A volte intensa Più degli altri momenti Della venuta del Regno Era forte nel momento del ritorno Di un popolo straniero Sul suolo sacro di Israele Avevano il momento storico Dell'oppressione romana Da più parti si cercava L'aiuto del liberatore promesso Di questo Messia Che confondevano Sarebbe venuto subito Già dal primo momento Come un liberatore militare e politico Cosa che accadrà Ma nel millennio Nel Regno di pace Che Gesù stabilirà Alla fine dei tempi Per insegnarci come sarebbe stato bello Essere governati dal Signore E desidero dirvi che Invece Non hanno capito Nonostante Dio Abbia mandato Una vera e propria Moltitudine Di messaggeri Dirà il Signore Ai regni di Israele Del nord e del sud Ogni giorno V'ho mandato i miei profeti Ma voi Non avete voluto Ascoltare E questa miriade Di messaggeri Proclamatori Araldi Di questo regno Che doveva venire Che attendevano Anche se alcuni In modo sbagliato Ha parlato In modo diverso Sarebbe infantile Fare La valutazione Di chi è più bravo E meno bravo Di chi è più simpatico E meno simpatico Di chi è più Importante E chi è meno importante Tra i messaggeri Del regno Ciò che conta Non sono I messaggeri E il messaggio E non a caso Il Signore Ha mandato Spesso Persone Che ad avviso Terreno ed umano Non erano Quelli giusti Spesso Ha prediletto Di mandare Di inviare Messaggeri Privi di Adeguata formazione Teologica Spesso anche Culturale Ma Dio Ha scelto Le cose Deboli Della vita Terrena Per proclamare Il suo regno E stabilire La sua venuta E' importante Che come a bambini Che non vogliono Seguire i vari giochi Che gli vengono Proposti Così si è comportato Il popolo Che ascoltava Gesù I versi Che avete letto Hanno a che fare Con questo Dice il verso 16 Ma a chi Paragonerò Questa generazione E' simile A bambini Seduti Nelle piazze Che gridano Ai loro compagni Questa Generazione E' evidente Che si tratta Di tutto Il popolo Che l'ascoltava Ma soprattutto Lui si rivolgeva A farisei E dottori Della legge Che non facendosi Battezzare Dal battista Hanno respinto La volontà Di Dio Per loro Dice Gesù Nel passo analogo Di Luca Capitolo 7 E i fanciulli Invitati Sono anche Di una certa Rilevanza Nel verso 17 Vi abbiamo Suonato Il flauto E non avete Ballato Abbiamo cantato Dei lamenti E non avete Pianto Non è difficile L'interpretazione Di questo Semplicemente Si vuole Affermare Si vuole dire Che i messaggeri Vari Sono stati Rifiutati E Questi messaggeri Hanno usato Tanti modi Per predicare Proprio come Bambini Che a quel tempo Giocavano Mimando Imitando Un matrimonio E Nessuno L'ha voluti Seguire Poi Hanno voluto Pensare Adesso Giochiamo A fare un Funerale Ma nessuno Li ha voluti Seguire Ci parla Del fatto Che L'Evangelo Del Regno È rifiutato Da chi Non è convertito E non ha Intenzione Di convertirsi Ci sono cuori Duri Ostinati Che non hanno Niente a che fare Con la tenerezza Della carità Di Cristo Con le sue Viscere Di misericordia Con L'aurora Dall'alto Che è venuto A visitare Il suo popolo E la scrittura La Bibbia Dice Chiaramente Che questo Diverso Annuncio Nonostante I vari modi Di predicare Non è stato accettato Non sono stati Neanche accettati I vari messaggeri Abbiamo Già Accennato Ai profeti L'ultimo Dei quali Venuto Fu appunto Giovanni Battista E Il Battista E Gesù Hanno Predicato Il Regno Ambe due Insistendo Sul ravvedimento Dirà L'Evangelista Matteo Capitolo 3 In quei giorni Venne Giovanni Il Battista Che predicava Nel deserto Della Giudea E diceva Ravvedetevi Perché il Regno Dei Cieli È vicino Uno che predica Nei deserti È un po' Strano Pensa la gente Ma Questo personaggio Strano Per alcuni Godeva Dell'azione Dello Spirito Santo Che attirava Le folle A lui Per fargli Ascoltare L'annuncio Del Regno Dei Cieli Normalmente È facile Attirare La gente Facendo Miracoli Prodigi Segni E operando Meraviglie Ma Giovanni Battista Non è detto mai Che ha compiuto Un miracolo Ha solo Predicato Il ravvedimento Per Entrare Nel Regno Nel Regno Dei Cieli Eppure Moltitudini Intere Andavano A lui E accettavano Di farsi Battezzare Non tutta Quella generazione Non I farisei E i dottori Della legge E poi è venuto Gesù Che da quel Tempo in poi Cioè dopo Il battesimo Cominciò A predicare E dire Ravvedetevi Perché il Regno Dei Cieli E vicino L'insegnamento E che Purtroppo Il diverso Annuncio Della venuta Del Regno Fu fatto Da messaggeri Che furono Rifiutati Furono Rifiutati I profeti Fu rifiutato L'ultimo Di quella schiera Giovanni Il Battista Fu rifiutato Persino Gesù Ma la buona Notizia è Che A tutti Quelli Che l'hanno Ricevuto Dio Ha dato Il diritto Di diventare Figlioli Di Dio E siamo così Grati al Signore Di avere Questa preziosa Realtà Questa preziosa Promessa Per Ciascuno Di noi Il diverso Annuncio Della Venuta Del Regno È Fatto Da messaggeri Diversi Dal solito E Giovanni Battista È diverso Dal solito Non Oggi Si direbbe Somiglia Alla maggioranza Dei pastori Non Oggi Si direbbe Si direbbe Sembra Uno dei tanti Uomini Di Dio Perché Perché Si vestiva In modo Diverso E infatti Leggiamo Nel verso 18 Difatti È venuto Giovanni Che non mangia E non beve Dicono Ha un demonio Era ritenuto Troppo Austero Severo E in questa Austerità Integrità Severità Egli addirittura Venne Fatta L'illazione Che fosse Influenzato Da Satana A Un demonio Non c'è niente Di più Pericoloso Che attribuire A Satana L'opera Di Dio Gesù Ha parlato Di questo E l'ha definito Una bestemmia Contro Allo Spirito Santo Non dovremmo Mai confondere Le cose L'opera Di Dio È l'opera Di Dio L'opera Di Satana È l'opera Di Satana E prima Di legiferare Dichiarare Bollare Proclamare Dio E il diavolo Dovremmo Avere Un chiaro Panorama Biblico E una evidente Intuizione Spirituale Discernimento Spirituale Per poter Fare Certe Affermazioni Mentre Essi Se ne Andavano Gesù Cominciò A parlare Dice il Verso 7 Di Giovanni Alla Folla E disse Che cosa Andaste A vedere Nel Deserto Una Canna Agitata Dal Vento Gesù Usa L'espressione Non perché Vuole denigrare Il Battista Ma il Battista È in Carcere È detenuto E sta Avendo Un momento Come dire Di perplessità Sei tu Colui Che deve Venire Oppure Ne Attenderemo Un altro Ma come Il grande Predicatore L'Elia Che doveva Venire Il nuovo Elia Che doveva Venire A preparare La strada Al Messia Adesso Ha un momento Di dubbio Ha un momento Di perplessità Beh Non dovremmo mai Giudicare Un uomo Di Dio Per I suoi Momenti Difficili Il Battista Somigliava In quel momento A una canna Agitata Dal vento Che cosa Venisti A vedere Nel deserto Chiede Gesù Dalla prigione Gli ha mandato A dire Sentendo Delle opere Del Cristo Nonostante La rivelazione Interiore Che lui Ha avuto Di Gesù E ciò Che è venuto A sapere Del Messia Sei tu Colui Che deve Venire O dobbiamo Aspettarne Un altro Gesù Chiede anche Ma che cosa Andaste A vedere Nel verso Otto Un uomo Avvolto In morbide Vesti Quelli Che portano Delle vesti Morbide Stanno nei palazzi Dei re Sono le vesti Adatte Ai nobili Ai funzionari Reali Ai cortigiani Reali Invece Giovanni Aveva un altro Guardaroba Ben descritto Nelle scritture Aveva un vestito Di Pelo Di cammello E una cintura Di cuoio Attorno ai fianchi Si cibava Di cavallette E di miele Selvatico Un uomo Così Voi andaste A vedere E Gesù Continua Con le sue domande Retoriche Ma non troppo Con le sue Affermazioni Che vogliono Provocare Una vera e propria Discussione Che andaste A vedere Non avete accettato I diversi modi Non avete accettato Neanche I diversi messaggeri E' venuto Lui E voi Avete detto Che aveva un demonio Perché non mangia Non beve Perché si veste In modo Troppo austero Troppo severo Una persona Che sembra Non dare Nessuna Licenza Alle proprie Debolezze Alla propria Umanità E' vero C'è molta gente Che ama Chi dice In piazza Le proprie Debolezze E ama Di meno Chi invece Le tiene nel cuore E cerca Di non affliggere Il prossimo Gli strappalacrime Abbondano E anche quelli Che in qualche maniera Vogliono Essere Al centro Dell'attenzione Facendo valere Le loro difficoltà Le loro sofferenze Ma cosa abbiamo Noi Da aggiungere Alle sofferenze Di Cristo Il suo sacrificio E' completo E non abbiamo Niente da aggiungere Perché egli affermò Tutto E' Compiuto Tutto E' Compiuto Notiamo insieme Nel verso 9 dice Ma perché Andaste Per vedere Un profeta Sì io vi dico Disse Gesù E' più che Profeta Notate la differenza Di Gesù Profetizzarono Tutti Dice Atti 10 Di lui Attestano Tutti i profeti Che chiunque Crede in lui Riceve Il perdono Dei peccati Mediante Il suo nome Gesù Dunque E' Persona Di cui hanno parlato Tutti i profeti Di Giovanni Di Giovanni Qualcuno La differenza Di Giovanni E Gesù E' questa Che Giovanni E' persona Di cui si è Profetizzato Ma Giovanni E' anche La stessa Profezia Nell'argomento In altri termini Profezia E profeta Sono ambe Due presentati E questo Fa la differenza Diceva il profeta Malachia Ecco io vi mando Il mio messaggero Che spianerà La via Davanti a me E' subito Il Signore Che voi cercate L'angelo Del patto Che voi Desiderate Entrerà Nel suo tempo Dunque Quell'attesa Intensa Della venuta Del re Della venuta Del Signore Che avrebbe Stabilito Il suo regno Era stata Prevista Da Malachia A Matteo Passano Quattrocento Anni circa E c'è un silenzio Biblico Tra l'ultimo Libro Dell'Antico Testamento E il primo Del nuovo Ma Dio Sia lodato Perché Quando La voce Degli uomini Taceva Quando La voce Dei profeti Non si udì Più Dio Stava preparando La strada E venne Un uomo Che spianò Il sentiero Al Messia Che doveva Venire Il suo nome Fu Giovanni Battista Per alcuni Una canna Agitata Dal vento Per altri Un uomo Troppo severo Che non mangiava E beveva Con gli altri Austero Nel vestire Un profeta Gesù Disse di lui Che era Il maggiore Di essi Perché Superò Tutti i profeti Perché Tutti Parlarono Di questo profeta Che doveva Venire Questo liberatore Che doveva Arrivare Questo figlio Di Dio Che doveva Venire L'Emmanuele Dio con noi Ma non Lo videro Il Battista Ne parlò E lo vide E in questo Egli è Il maggiore Di tutti I profeti Non è dato a tutti Parlare di una cosa E poi vederla Ma lui Ne ha parlato E l'ha anche Vista Il diverso annuncio Della venuta Del regno È fatta Anche nel diverso Ministero E servizio Che Giovanni Ha svolto E per questo Che afferma Nel verso 11 Non è sorto Nessun Nessuno Maggiore Di Giovanni Il Battista E a noi Riesce un po' difficile Immaginare Maggiore Un uomo Che non ha fatto I miracoli Straordinari Di Mosè Di Elia Di Eliseo Siamo abituati A pensare Grandi Gli uomini Potenti Ma si può essere Potenti In opere E in parole Gesù invece Lo fu in ambedue E perciò Va a lui Tutta Tutta La gloria Notiamo Il posto Assegnatogli Il maggiore Perché Egli In realtà Essendo anche Il più piccolo Nel regno Dei cieli Forse Quando qualcun altro Lo supererebbe Resta una figura Importante Quando Pensiamo a questa Affermazione Non possiamo Fare meno Di chinare Il nostro Capo Riverenti Dinanzi Alla Dottrina Cristiana E dire Signore Sei veramente Grande E così Finora Stiamo vedendo Che Uomini Diversi Fino Fino al Battista E poi A Gesù Modi Diversi Predicare Con Una Rappresentazione Di un matrimonio Niente Nessuna Ascolta Di un Funerale Niente Nessuna Ascolta Poi Poi Arrivò Nella Pienezza Dei Tempi Il Signore Gesù Perché Dio Nella Pienezza Dei Tempi Mandò Il suo Figliolo Gesù Cristo E Qui Noi Vediamo Anche Che ci furono Periodi E Modi Diversi Dai Giorni Di Giovanni Battista Dice il Verso 12 Fino Ora Il Regno Dei Cieli È Preso A Forza E I Violenti Se Ne Impadroniscono Prima Di Questo Tutti I Profeti E La Legge Hanno Profetizzato Dice il Verso 13 Fino Giovanni Ma Da Allora E In Poi Dice Il Verso 12 Il Regno Dei Cieli È Preso A Forza E I Violenti Se Ne Impadroniscono È Probabile Che Non Hai Preso Troppo Su Serio Il Regno È Probabile Che Stai Trattando La Cosa Come Se Fossi Sicuro Di Vivere Chissà Fino A Quando Ma Noi Non Siamo Padroni Neanche Del Prossimo Secondo Di Vita Che Verrà E Per Questo Che Oggi Adesso Ora Vogliamo Imparare A Essere Umiliati Sotto La Potente Mano Del Signore Vogliamo Essere Sottomessi Alle Sacre Scritture La Bibbia Dice Le Scritture Dicono Dai Giorni Di Giovanni Il Battista Fino Ora Il Regno Dei Cieli È Presa Forza E Vorrei Dire Anche Qualcosa Di Questi Modi Diversi Verso 16 Abbiamo Letto A Chi Paragonerò Questa Generazione Gesù La Vede Infantile Corrotta Perché Si Erano Allontanati Da Ciò Che Era Giusto A Chi Paragonerò Questa Generazione Gesù La Vede Ostile Perché Trovano Sempre Scusa Se Si Tratta Di Predicare Imitando Un Matrimonio Troppa Allegria Se Si Tratta Di Predicare Imitando Un Funerale Parlando Di Un Argomento Serioso E Qui Parlano Sempre Di Morte Ci Sta Gente Che Non È Contente Di Niente Di Nessuno Ma La Verità È Che Gesù Sta Per Ritornare E Allora Si Vedrà Chi Era Veramente Cristiano E Chi No Le Nostre Chiese Sono Piene Di Persone Che Di Domenica In Domenica Ascoltano L'annuncio Dell'Evangelo E Tantissimi Seguono I Nostri Programmi Con Regolarità Ma Qui Si Tratta Non Di Seguire O Vedere O Ascoltare Qui Si Tratta Di Fare Un Incontro Con Il Salvatore Con Gesù Il Figliuolo Del Dio Vivente A Chi Paragonerò Questa Generazione Una Generazione Di Evasione Che Cerca Sempre Una Scusa Ma Anche Una Generazione Criticona Non Gli Sta Bene L'approccio Separatista Del Vangelo Con Giovanni Il Battista Che Vive Isolato Separato Con Giovanni Il Battista Che Non Accetta Ad Andare A Pranzo A cena Dalla Gente Che Lo Invita Ma Non Gli Sta Bene Neanche L'approccio Sociale Al Vangelo Con Gesù Che Invece Accetta Che Va Persino A Mangiare Con I Peccatori Con I Pubblicani Cioè Gli Esattori Delle Tasse Vendute Ai Romani Con Le Donne Con Gli Uomini Che Non Hanno Una Buona Nominata Gesù Accetta Di Parlare E Purtroppo Ammettiamolo Le persone Che Non Vogliono Saperne Troveranno Tutte Le Scuse Ma Alla Fine Dovranno Essere Giudicati E A Chi Paragonerò Questa Generazione È Simile A Bambini Seduti Nelle Piazze Dove La Parola Originaria Indica Un Posto Pubblico Di Ritrovo E Oggi La Piazza Antica Quella Fisica Non È Quasi Sempre Più Una Vera Piazza Costruita Rivestita Di Un Pavimento Con Degli Edifici Attorno Oggi Una Piazza Può Essere Un Network Sociale Un Mezzo Di Comunicazione Dovunque Siamo Anche In Questo Momento Davanti A Facebook Può Essere La Tua Piazza Il Posto Dove Stai Ricevendo L'annunzio Dell'Evangelo Dici Sì Al Re Dei Re Chi È Questo Re Di Gloria Si Chiede Il Salmista Nel Salmo 24 Egli Il Signore Forte E Possente Egli È Il Re Di Gloria E noi Lo Vogliamo Accettare Vi Abbiamo Suonato Il Flauto E Non Avete Ballato Un Gioco Abbiamo Detto Dove Imitavano Le Nozze Vi Abbiamo Cantato Dei Dei Lamenti Dei Lamenti Un Gioco Dove Imitavano I Funerali Da Più Parti Viene Chiesta La Chiesa Del Signore Dovete Aggiornare Il Messaggio Dovete Rappresentare Il Messaggio Invece Di Predicare Il Messaggio Noi Siamo Rimasti All'antica Predicazione Perché La Bibbia Dice Che Noi Predichiamo Cristo Crocifisso E Non Abbiamo Bisogno Di Altro Ma Una Varietà Di Mezzi E Metodi Per La Conversione Delle Anime Non Può Dimenticare L'elementare Lezione Dio Vuole Che Tutti Gli Uomini Siano Salvati Vari Sono I Metodi Che Possono Essere Usati Se Non Ascoltano La Voce Della Scrittura La Voce Della Ragione La Voce Dell' Esperienza La Voce Della Provvidenza La Voce Della Coscienza La Voce Del Proprio Interesse Che Si Può Fare Più Per Spingere La Gente Ad Accettare Il Signore Già Il Profeta Geremia Ne Aveva Parlato Con Linguaggio Del Suo Tempo Il Mantice Soffia Con Forza Sarebbe Quell' Affare Che Soffia Su Fuoco Per Alimentarlo Il Piombo E Consumato Dal Fuoco In vano Raffina Il Raffinatore Perché Le Scorie Non Si Staccano Saranno Chiamati Argento Di Rifiuto Presto Verrà Il Grande Misuratore Presto Verrà Gesù E Allora Si vedrà Il Vero E Falso Cristiano Quello Che Ha L'apparenza Della Pietà Ma Ne Ha Rinnegata La Sostanza Scegli Gesù Vola Verso Dio Corri Verso Lui Dio Voglio Accettare Il Regno Afferma Io Voglio Appartenere A Cristo Cristo Appartenga A Me E C'è E Infine Il Diverso Annuncio Della Venuta Del Regno Fatto Con Risultati Diversi Prima Di Tutto Le Opere Dei Ravveduti Abbiamo Letto Al Verso 19 Venuto Il Figlio Dell'Uomo Cioè Gesù Che Mangia E Beve Dicono Ecco Un Mangiatore Un Beone Un Amico Dei Pubblicani E Dei Peccatori Accusarono L'accoglienza Che Gesù Faceva I Disprezzati Accusavano L'accoglienza Che Gesù Faceva Agli E Marginati Non È Facile Andare Non è Facile Andare In Certe Situazioni Ma Gesù Ci ha Chiamato Ad Andare Dal Più Grande Dei Peccatori Per Digli Gesù Ti Ama E Quando Gesù Accarezzava Toccava Un Lebroso Gli Faceva Avvertire Il Calore Dell'amore Di Dio Quando Gesù Prendeva E Non Si Rifiutava Di Essere Toccato Da Una Donna Ammalata Di Una Malattia Che Cerimonialmente Lo Rendeva Possibilmente Inquinato Contaminato Gesù Sta in Pratica Dicendo A Quella Donna Chi Mi Ha Toccato Non Per Improverarla Di Averlo Fatto Ma Per Fargli Capire Che Se N'era Corto E Che Era Guarita Perché Una Virtù È Uscita Da Me Disse Il Signore Gesù Cristo Sì Ecco Un Mangione Un Beone L'accusarono Di Accusarono Anche Il Battista Di Essere Troppo Conservatore E Troppo Disciplinato E Troppo Isolato Dal Mondo La Chiesa Quando si è Aperta Troppo L'hanno Criticata Quando si è Chiusa Troppo L'hanno Pure Criticata Accusarono Così Gesù Di Licenziosità Sei Troppo Permissivo Nelle Amicizie E Poi Parli Con Le Donne Addirittura Con Donne Samaritane Addirittura Con Donne Immorali Ma Gesù È Venuto Per Gli Ammalati E Non Per I Sani E Così Se tu Stai A posto E pensi Che Tutto Questo Non Ti Interessa Affatto Perché La Verità È Che Tu Non Senti Il Bisogno Della Salvezza E Allora Resta Pure Nel Tuo Peccato Ma Se C'è Una Voce Che In Questo Momento Ti Sta Dicendo Ricevimi Nel Tuo Cuore Accettami Io Picchio Alla Porta E Se Alcuno Ode La Mia Voce D'apre Io Entrerò E Ce Nero Con Te Allora Questo È Il Momento Giusto Per Accettare Il Signore Dice Giustificata Dalle Sue Opere Gesù E La Sapienza Personificata Paolo Dirà Nel Quale Tutti I Tesori Della Sapienza E Della Conoscenza Sono Nascosti Gesù Nel Verso 20 Prese A Rimproverare Le Città Nelle Quali Era Stato Fatta La Maggior Parte Delle Sue Opere Potenti Poiché Perché Non Si Erano Ravedute Dio Non Vuole Che Tu Stai Meglio Dopo Aver Ascoltato Questa Predicazione Dio Vuole Che Tu Ti Ravedi Dio Non Vuole Che Tu Dica Come Mi Sento Bene Quando Vado In Chiesa O Quando Vedo Il Programma Tutto È Possibile No Dio Vuole Che Noi Ci Ravvediamo Cosa È Infine Concludendo Questo Ravvedimento Ravvedimento È Provare Un Pio Dolore Addolorarsi Per I Nostri Peccati E Sottintende Il Fare Dietro Front Volgere Le Spalle Al Peccato E Dirigersi Verso La Croce Andando Verso Cristo Il Figliolo Delli Dio Viventi Ma La Sapienza È stata Resa Giustizia Da Tutti I Suoi Figli Dirà Gesù In Luca Cioè I Saggi Dichiareranno Che sia Giovanni Che Gesù Erano Giusti I Modi In cui Giovanni E Gesù Predicavano L'uno Ascetico L'altro Sociale Erano Entrambi Giusti È Questione Di Tempi Ciò Che Veramente Conta È Dici Sì A Gesù Accetta Il Diverso Annunzio Della Venuta Del Regno Finora Forse Hai Ascoltato Un Modo Adesso Un Altro Ciò Che Veramente Conta È Dire Ti Ti voglio Oggi Come Il Salvatore Ci Alziamo All'impiedi Lodiamo Il Signore Insieme Padre La Nostra Preghiera Sale A Te Per Le Amiche E Amici Per Le Persone Che Hanno Ascoltato La Predicazione Della Parola Noi Vogliamo Intercedere E Pregare Perché Non Ci Sia Nessun Cuore Ostinato Come Faraone Duro Come Altri Che Hanno Rifiutato L'appello Della Grazia Noi Vogliamo Pregare Che Non Ci Sia Nessun Stolto Che Dica Il Mio Dio È La Mia Ricchezza Il Mio Dio È Stare Bene Sulla Terra Perché Questa Vita Passerà E Solo Chi Fa La Tua Volontà Dimorerà In Eterno Desideriamo Perciò Padre Pregarti Per Amiche E Amici Che Stanno Dicendo Dentro Il Loro Cuore Forse Persino Vergognandosi Di Dirlo Con Le Labbra Dio Salvami Gesù Salvami Voglio Venire Nel Cielo Con Te Ti Ringraziamo Perché Peccatori In Verità In Verità Ti Dico Oggi Sarai Con Me In Paradiso E Quindi Le Porte Del Cielo Sono Aperte Disponibili Spalancate Per Ogni Peccatrice E Peccatore Che In Questo Momento Sta Dicendo Ti Voglio Oggi Come Salvatore Grazie Signore Perché Hai Mandato Tante Persone A Predicare La Tua Parola Tante Persone In Modi Diversi Hanno Predicato Ma Ti Lodiamo Soprattutto Per Un Motivo Perché Tu Ci Hai Amato Perché Gesù Ha Lasciato La Gloria Del Cielo Si È Sottomesso Al Tuo Volere Non Ha Detto No Ha Detto Sì Farò Tutto Quel Che Tu Vorrai Eccomi Dio Vengo Per Fare La Tua Volontà Signore Ti Vogliamo Pregare Di Benedire Coloro Che Si Trovano In Necessità Mi Tocca Mi Guarisci Mi Trasformami Esaudisci Ogni Preghiera Lo Domandiamo E Chiediamo Nel Nome Di Gesù Tuo Figlio Il Benedetto In Eterno Io Ti 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 Ti